Cari amici del Festival, sono qui per portarvi un saluto. In questo momento dove tutto sta piano piano riprendendo, ma usciamo da una situazione molto complicata che ancora non è risolta. Credo solo che un po' nell'accettare le sfide dobbiamo sempre vedere quelli che sono i lati positivi. Sicuramente dal macro siamo arrivati al micro, quindi dalla grande città. Ci siamo poi rinchiusi nelle nostre case, abbiamo avuto modo forse di riflettere anche su quelle che sono le nostre possibilità e quello che sono anche l'approccio che abbiamo con la natura e con quello che ci circonda. Chi non ha avuto modo di avere la possibilità di un balcone, di un giardino, chiaramente ha vissuto una quarantena un po' diversa da chi invece ha potuto soffrire di uno spazio verde. Quindi questo credo che ci inviti a riflettere di quanto è importante la natura, di quanto è importante averla in diretto contatto con la nostra vita. Da qualsiasi aspetto basta una semplice pianta, basta fare manutenzione, basta pulire il giardino, è un momento che comunque in qualche maniera diventa terapeutico per tutti. Mi è compresa che ho un vivaio, ma che in questi giorni in cui sono stata in attività mi ha molto aiutato anche a pensare che in qualche maniera possiamo avere un futuro forse più sostenibile e forse più adattabile a quelle che sono le nostre esigenze anche quotidiane. Vi abbraccio e ci vediamo presto al Festival di Settembre.